Tre anni fa, la Walt Disney Pictures vi portò nel magico viaggio negli abissi del mare. L'anno scorso vi ha condotto in un castello incantato dove una bellissima ragazza si innamorò di una bestia. Oggi unitevi a noi in un'avventura al di là di ogni immaginazione. Aladim, la fantastica storia di un ragazzo che ha trovato una lampada magica e un genio capace di esaudire ogni suo desiderio e di trasformarlo in un principe. Agli ordini. Aladim. Aladim.